All'inizio di questa nostra avventura incontriamo Francesco, un giovane ambizioso ventenne di Assisi, mentre si trova prigioniero a Perugia. Per undici mesi il nostro giovane avventuriero rimane rinchiuso e qui inizia a morire il figlio di Pietro di Bernardone e comincia a nascere Francesco di Assisi. In ogni trasformazione esiste un primo risveglio e per Francesco il carcere rappresenta la prima pietra di un mondo nuovo. Nel silenzio di questi mesi Francesco inizia a percepire che tutta la sua vita è effimera, appoggiata a ideali transitori, tranne la realtà di Dio. Ogni adesione al Signore è molto personale, spesso strana e frutto di una ricerca di senso. Così i castelli merlati che si era costruito iniziano a sgretolarsi, le tante amicizie vuote diventano un ricordo e le spade sfolgoranti bastoni. A mano a mano che le polveri dell'illusione si iniziano a diradare, Francesco scopre un altro re da seguire, un vero amico per sempre. È ancora un'idea molto velata, embrionale, giovane. Francesco vive gli ultimi mesi di prigionia in modo diverso dagli altri suoi compagni. Sei pazzo, Francesco? Com'è possibile essere così irraggiante tra queste catene arrugginite? E Francesco risponde. Volete sapere perché? Guardate, qui dentro porto nascosto un presentimento che mi dice che arriverà il giorno in cui tutto il mondo mi venererà come santo.